Ecco la mia lasagna, non poteva mancare un assaggio che assaggio stasera, ho fatto almeno un paio di chili di questa splendida lasagna casareccia calabrese, tipica nostra con la salsiccia piccante, ruspante. Beh, io mi do un bel 10 a questa preparazione, di solito viene bene, ma come in questa occasione veramente insomma, vedete voi, uno spettacolo.